Angelina Mango. Arrestato il suo stalker, un 49enne di Ferrara. Benvenuti su Daily Gossip Scope, dove vi portiamo le ultime notizie e gli aggiornamenti più importanti dal mondo delle celebrità. Oggi parliamo di una vicenda che ha sconvolto molti fan. Lo stalker di Angelina Mango è stato finalmente arrestato. Ecco tutti i dettagli di questa storia inquietante. Mesi di terrore. Angelina Mango, la talentuosa cantante che ha conquistato il pubblico con la sua voce e il suo carisma, ha vissuto mesi di grande emozione e successo, tra la vittoria a Sanremo, la partecipazione ad Amici e l'Eurovision. Tuttavia, non tutto è stato rose e fiori. Purtroppo, la giovane artista è stata vittima di stalking da parte di un uomo di 49 anni, residente a Ferrara. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, ha tempestato Angelina di messaggi su WhatsApp e lettere. La situazione è diventata così grave che è stato necessario l'intervento delle autorità. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Mesola hanno arrestato lo stalker nella sua casa nel Ferrarese, trasferendolo poi nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Cona. L'arresto e le misure legali. L'arresto è avvenuto dopo che l'uomo, già agli arresti domiciliari per reati precedenti, ha continuato a perseguitare Angelina Mango nonostante una denuncia presentata dalla cantante a febbraio. Questa denuncia avrebbe dovuto impedire ulteriori contatti, ma lo stalker ha ignorato il divieto, continuando a inviare messaggi e lettere. Ora, il giudice di Milano che segue il caso sta aspettando una valutazione psichiatrica per determinare se l'uomo soffra di un'infermità mentale, il che potrebbe influire sulla sentenza finale. Questo passo è fondamentale per capire se sarà necessario prendere misure più severe per garantire la sicurezza di Angelina e della sua famiglia. Il supporto dei fan e il futuro di Angelina. I fan di Angelina Mango sono stati particolarmente colpiti da questa vicenda e hanno espresso il loro sostegno sui social media. Augurano alla cantante una pronta ripresa da questo incubo e sono ansiosi di vederla di nuovo sul palco. Il prossimo tour di Angelina rappresenta un altro importante capitolo della sua carriera e un'occasione per lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza. Conclusione. La storia di Angelina Mango e del suo stalker ci ricorda quanto sia importante la sicurezza delle persone pubbliche e il ruolo cruciale delle autorità nel proteggere le vittime di stalking. Continueremo a seguire questa vicenda e a tenervi aggiornati su eventuali sviluppi. Cosa ne pensate di questa situazione? Avete un messaggio di sostegno per Angelina? Lasciate un commento qui sotto e condividete il video. Non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie per averci seguito e alla prossima. Metti un like e attiva la campanella.